Antonino Spinalbese, l'ex compagno di Belen Rodriguez e padre della loro bimba, Luna Marino, lungo video confessa a cuore aperto i suoi problemi di salute. Dopo mesi di silenzio, conferma la rottura con la showgirl argentina, ma non solo. L'ultimo periodo è stato davvero difficile. L'ex hairstylist ha perso molti chili per i problemi di coppia e la gestione dell'improvvisa notorietà, poi un incidente in macchina da cui ha riportato due costole incrinate. Non solo, un dolore cronico lo ha costretto a fare accertamenti e durante ricovero in ospedale ha scoperto di avere una malattia autoimmune. Antonino ha perso 13 chili e ha sofferto molto. Ha trovato la forza solo grazie alla figlia ed a un percorso di allenamento.